Ciao a tutti, allora io mi rivedo totalmente in questa lista perché ci sono tante esperienze insieme, che stanno facendo il percorso insieme, quindi diciamo sono delle forze plurime, no? E la mia è una candidatura plurima, cioè non mi sto candidando io, si sta candidando il gruppo che insieme a me da sei anni si è preso cura del quartiere Cavalleggine, noi non pensavamo di occuparci di cose più grandi di noi, diciamo che invece nel percorso sono venute, però insieme, lottando insieme, nella mia generazione si diceva che le cose non cambiano solo con l'uomo, si cambiano anche con le loro. Ecco, noi abbiamo lottato, abbiamo lottato per difendere un consultorio che era stato porto, abbiamo lottato per riappropriarci di un parco che da anni era stato chiuso, abbiamo lottato in tante situazioni, questa è la strada, la strada si fa insieme, si fa insieme scambiandoci il sapere e mettendoci tutto quello che uno può può dare, può trasmettere insieme agli altri. Allora, addirittura ci sono tanti ostacoli, tante difficoltà perché noi sì, ci candidiamo per andare a governare il municipio, ma ci dobbiamo scontrare e già lo abbiamo fatto, quindi un po' siamo anche vaccinati. Con la burocrazia che sta all'interno del municipio, documenti che spariscono, documenti che non ti danno, richiedi dopo tanti anni e alla fine insomma riesci a scambinare qualcosa. Ci sono tanti fondi che invece non vengono utilizzati per riattivare, ecco, il mio slogan è riattiva Cavalleggeri e quindi riattiviamo questo municipio. Per esempio nella nostra zona ci sono quattro edifici pubblici morti, morti che non vengono usati da anni, da anni praticamente. Ci sono i fondi per riattivarli, per fare mille cose perché ci sono anche i fondi europei e noi siamo bravi, noi italiani, a chiedere i fondi europei perché siamo i migliori a fare le pratiche eccetera, poi siamo i meno bravi a spenderti perché quando arrivano i fondi europei utilizziamo solo il 20%, questo è il discorso. Allora questa bella comunità dice c'è un municipio migliore, il municipio migliore già c'è, ha già sperimentato questo e questo continuerà a fare sperando dopo il 3-4 ottobre. Vinciamo con Aurelio il Comune e con la Presidente Giuseppetti e tutti i gruppi e Valtieri. Grazie.